Traversone verso il centro, colpo di testa di Inzaghi e palla fuori di un soffio. Pirlo dentro, Paoletti su deviazione di Gilardino. Pirlo morbido per Inzaghi, Paoletti fuori tempo, però ha subito fallo. Il cross verso Gilardino, si gira Alberto! Gilardino! 1-0! Siedorf, ballone ancora per Kakà, posizione regolare, Kakà va dentro l'area di rigore. Sul fondo il sinistro di Kakà. Di Natale, Didacca. Kakà, Didacco, Inzaghi, vuole girarsi, Inzaghi, arriva Sedor, fa rimorchio. Traversone! Sedor! 2-0! Andrea! Pirlo! Tunnel! Dentro Kakà, si sposta Inzaghi, arriva Pirlo, deviazione, calcio d'angolo. Spettacolo del Milan adesso. Siedorf, dentro per Serginio, Serginio all'indietro. Alberto! Gilardino! Prima doppietta a Milano. GILARDINO! 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 GIACQUINTA va via la grande! Calcio di rigore! FALLO DI GATTUSO! CONTRO DI THIDA! VIACQUINTA 4-1 DI MICHELE, THIDA! prova a passare in mezzo a due Serginio che meriterebbe la soddisfazione personale va via Serginio Paoletti Taka